buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial oggi andremo a vedere come creare una lamiera con quattro scantonature e due campi forati per fare questo avviamo innanzitutto il product designer per prima cosa bisogna fare il login sul sito della mevaco a login effettuato possiamo andare ad avviare il product designer lo troviamo qui in alto sotto strumenti mevaco product designer lo facciamo partire e come prima cosa iniziamo a inserire i parametri il progetto del foro prendiamo un foro tondo una perforazione rt diametro 10 interasse 15 con un di foratura completo in acciaio spessore 15 decimi e senza trattamento superficiale clicchiamo aggiungi posizione confermiamo i nostri parametri e qui andiamo a scegliere utilizziamo un modello mevaco modello campi forati multipli ci permette di creare velocemente più campi forati qui possiamo stabilire quante colonne quante righe vogliamo mettiamo due colonne come abbiamo visto dell'immagine prima lasciamo una riga come vedete qua il disegno non cambia per questo disegno è solo una leggenda un disegno statico i campi b1 e b2 eccetera sono le colonne qualche vediamo qua invece gli a1 gli a2 eccetera sono le righe in questo caso vorremmo un bordo anche qua da 50 mm questo f1 lo portiamo a 50 come anche i bordi esterni perimetrali come vedete il secondo valore viene ridotto in automatico appena io metto 50 quindi dobbiamo fare un piccolo calcolo e sarebbero due campi da 550 quindi mettendo 550 nel primo campo b1 in automatico il secondo ottiene il valore da 550 clicchiamo su crea poi andiamo a verificare sotto campo forato il risultato come vedete abbiamo creato la nostra lamiera con i due campi forati adesso vogliamo mettere le scantonature per fare quello intanto tolgo la griglia per avere un po una visuale un po migliore poi prendo lo strumento scantonature selezioniamo quello rettangolare lasciamo pure 40 per 40 come valore e adesso con lo strumento attivo posso andare a cliccare sui singoli angoli per applicare la scantonatura qui è importante di non mettere un valore che vada all'interno di questi campi forati qua al bordo è da 50 quindi il valore massimo qua dovrebbe essere 50 per 50 anzi forse un qualcosina anche meno l'importante che non li superi adesso avendo fatto tutti quattro tutte quattro le scantonature possiamo andare a prendere delle quote perché ci sono già delle quote automatiche come vedete queste che vediamo qui però alcune quote mancano adesso ad esempio andiamo a misurare a quotare la scantonatura qua in alto allora con la rotellina del mouse potete zoomare e tenendo premuto il tasto destro potete spostare la visuale adesso io mi posizione qua con lo strumento quotare clicco sul primo punto poi sul secondo vedete adesso mi appare la quota adesso posso spostarmi col mouse e posizionarmi dove meglio mi aggrada e con un terzo clic fisso la quota stessa cosa possiamo fare anche con i campi forati qua vediamo che i bordi sono da 50 sono stati quotati in automatico invece il bordo fra questi due campi forati non c'è non viene messo in automatico andiamo a misurarlo noi andiamo appunto su su questi due fori che sono quelli più vicini clicco su primo sulla mezzeria poi sul secondo adesso se vedete se io vado verso destra col mouse col cursore la quota viene presa esternamente ai fori se invece mi posiziono all'interno cioè verso sinistra la quota viene presa fra i due fori fra la parte esterna clicco un'altra volta e con un terzo clic fisso la quota così siamo andati anche a quotare il campo forato questo qua l'f1 e la nostra scantonatura questo è tutto per oggi grazie per la vostra attenzione